e il pattern, cioè il modello di comportamento è quasi sempre questo, niente di più, niente di meno. A seconda le tipologie del disturbatore però possiamo adottare differenti soluzioni, il mio consiglio è cacciate fuori gli haters e chiamateli con il loro nome. Una persona che viene lì e vi ricordate l'immagine dall'inizio? L'immagine faceva questa battuta, vi diceva cosa si tira a uno zingalo che sta affogando? La moglie e i figli. Quello va cacciato. Se adesso entrasse uno qui e iniziasse a dire che quelli con i capelli biondi adesso li prendiamo e li buttiamo giù dalla finestra. A parte due sceffoni cosa fareste? Voi non c'erei. È la stessa cosa.